L'estate 2019 è già entrata negli annali del nuovo clima da Mondoserra. Due eccezionali ondate di calore hanno interessato l'Europa. A fine giugno con 46 gradi presso Montpellier, nuovo record francese, e a fine luglio con 42,6 gradi a Parigi. Anche Regno Unito, Belgio, Olanda e Germania hanno stabilito nuovi primati nazionali di temperatura, attorno a 40 gradi, e sia giugno sia luglio sono stati i mesi più caldi in assoluto a livello mondiale dall'era preindustriale. Nell'oceano artico la banchise ha i minimi storici, ne mancano 2 milioni di chilometri quadrati rispetto alla norma, e in Groenlandia solo in luglio sono fusi quasi 200 miliardi di tonnellate di ghiaccio, che in un mese hanno fatto salire di mezzo millimetro a livello marino globale. In Alaska, Canada e in Siberia caldo e siccità hanno facilitato incendi senza precedenti, rilasciando nell'aria circa 80 milioni di tonnellate di CO2, come le emissioni annue di 13 milioni di italiani, che aggraveranno ulteriormente il riscaldamento globale. L'Italia è stata un po' a margine della calura record, ma il trimestre estivo 2019 rientrerà probabilmente nei dieci più caldi dal 1800. Cosa aspettiamo a ridurre le emissioni?